Martedì 27 marzo, benvenuti all'edizione completa del WebTG di Unica Channel. Apriamo parlando dell'RC Auto. Le assicurazioni infatti aumenteranno grazie ad un provvedimento della provincia di Napoli. Vediamo maggiori dettagli nel servizio. Non si è in pratica ancora insediato che il nuovo assessore al bilancio e risorse strategiche Francesco Serau ha varato un provvedimento che comporterà l'aumento dell'imposta sulla RC Auto e la maggiorazione della tariffa di iscrizione al registro automobilistico. Il tutto si giustificano da Palazzo Matteotti perché la manovra Monti ha assorbito gli introiti della provincia per oltre 61 milioni di euro. In più va considerato che da quest'anno è venuto meno il gettito dell'addizionale Enel, pari a circa 38 milioni di euro. In questo modo, spiega l'assessore, l'ente non avrebbe più potuto erogare i servizi. La giunta provinciale ha deciso quindi di incrementare dal prossimo giugno le imposte sulle assicurazioni, portandola dal 12,5% al 16%, nonché di stabilire per l'anno 2012 la maggiorazione del 30% della tariffa di iscrizione al pubblico registro automobilistico. Il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro, addirittura paventa ulteriori aumenti per far quadrare il bilancio. Bisognerebbe chiedersi però se non era possibile tagliare qualche spreco per evitare il solito salasso sugli automobilisti. E non sono bastati i 450 vigili urbani e l'incremento degli autobus ad attenuare i disagi legati al debutto della maxizona ZTL attiva nel quartiere di Chiaia a Napoli e introdotta dal Comune per la Coppa America che resterà attiva fino al 25 aprile. Caos e coda interminabili hanno caratterizzato l'intera zona. Il Comune ha assicurato dei correttivi ma occorrerà intervenire velocemente. Si è rotto qualcosa tra Monti e i partiti che lo sostengono? Lo sapremo nei prossimi due giorni. Intanto il Premier è impegnato in una visita diplomatica in Corea del Sud. Vediamo il servizio. Il primo ministro Mario Monti è stato impegnato in un incontro bilaterale con il presidente cinese Hu Jintao. L'obiettivo del Premier è quello di incentivare investimenti pubblici e privati in Italia. Jintao si è detto favorevole dimostrando l'apprezzamento già espresso nei confronti delle misure intraprese dal governo italiano. Apprezzamenti verso il governo Monti sono arrivati anche da Barack Obama che ha dichiarato che il ruolo di Monti è stato centrale per i progressi registrati non solo in Italia ma anche nell'Eurozona. Il Premier italiano ha incontrato anche il primo ministro indiano Mohan Mohan Singh che ha assicurato la piena collaborazione dell'India per quanto riguarda la liberazione di Paolo Bosusco. Sul fronte interno arrivano le prime risposte alle parole di Monti sulle polemiche in atto tra PD, PD e governo. Se il paese non si sente pronto per un buon lavoro non chiederò di continuare, ha detto il primo ministro. Bersani continua a chiedere modifiche sul testo della riforma del lavoro, mentre dal PDL Alfano è critico sullo stop momentaneo della riforma. Anche Casini ha parlato di un nuovo rischio di crisi per l'Italia. E continua la visita di Papa Benedetto XVI a Cuba. Dopo aver celebrato la messa davanti a 200.000 fedeli, Ratzinger è volato all'Havana dove potrebbe incontrare Fidel Castro. Dopo la prima giornata della sua visita a Cuba, che ha visto la presenza di 200.000 fedeli alla messa nella plaza Antonio Maseo di Santiago, Papa Benedetto XVI si è recato all'Havana, dove incontrerà nuovamente il presidente Raul Castro ai vertici della Repubblica. E' ancora in forza la replica della storica stretta di mano tra Fidel e il Papa, già avvenuta nel 1998 con protagonista Giovanni Paolo II. Prima ancora di arrivare a Cuba, Ratzinger aveva parlato del marxismo come di un'ideologia ormai sorpassata, non più rispondente ai bisogni reali del popolo e si è detto vicino alle preoccupazioni e alle aspirazioni dei cubani, anche ai detenuti e alle loro famiglie, in riferimento alla questione dei dissidenti politici trattenuti nelle prigioni dell'isola. Raul Castro, da parte sua, ha sottolineato l'importanza della visita del Papa come riconoscimento degli stretti rapporti che legano Cuba alla Chiesa Cattolica e non ha perso l'occasione per criticare ancora una volta la politica americana verso l'Havana, che avrebbe cercato, senza riuscirci, di togliere la libertà al popolo cubano. Paolo Iannelli, primario della seconda sezione di ortopedia del Cardarelli e manager della clinica di Via Manzoni, sempre a Napoli, Villa del Sole, è stato scarcerato per un vizio di forma. Iannelli era stato arrestato lo scorso 6 marzo nell'ambito dell'inchiesta sul presunto direttamento dei pazienti dall'ospedale alla clinica. È stato fatto uno sfregio alla mia famiglia, ha dichiarato appena uscito dal carcere. E sempre polemiche, ma a Casoria, in provincia di Napoli, dove venerdì scorso, un gruppo di disoccupati facente capo all'Unione dei sindacati di Bate ha protestato contro la decisione di 14 consiglieri comunali di rassegnare le proprie dimissioni e far cadere così la giunta. Vediamo il servizio. La Commissione parlamentare antimafia interviene a Casoria sul caso scoppiato la settimana scorsa con la protesta di un gruppo di disoccupati appartenenti al movimento USB, l'Unione sindacale di base. Gruppo che impedì a quattro consiglieri comunali del Partito Democratico e a quelli dell'opposizione di centrodestra di presentare le proprie dimissioni e determinare così la caduta anticipata di tutta l'Assemblea cittadina. Verrà presentata dal parlamentare PDL e membro della Commissione antimafia, Amedeo Labboccetta, un'interrogazione al Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, affinché venga fatta luce sull'accaduto. «È stato impedito ai rappresentanti eletti democraticamente di svolgere una loro legittima facoltà», ha detto Gennaro Nocera, consigliere regionale in forza al partito di Silvio Berlusconi. «Il fatto è di una gravità inaudita». E sempre in merito ai fatti di venerdì scorso è venuto a trovarci nei nostri studi Gennaro Laudiero, consigliere dell'USB. Vediamo che cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. «Ci hanno tacciato venerdì come squadristi, come persone violente, cose che noi le spingiamo al mittente fortemente dicendo che noi stavamo lì, sì, un po' concitati, ma soltanto per invitare i consiglieri comunali che dovrebbero rappresentare la legalità e dovrebbero essere responsabili verso chi l'ha votati, alla governabilità di questa città. Se questa amministrazione va a casa, si mette in discussione il più Europa, 25 milioni di euro in materia infrastrutturale edilizia in questa città, oltre al progetto che abbiamo presentato noi all'inizio di questa consigliatura di questo nuovo sindaco come Casoria tipo Vede Lago per un centro di raccolta ecosostenibile e differenziata e un altro progetto che abbiamo presentato che ha una grande fattibilità in economia che si chiama Casoria Bene Comune, quella che disoccupa di questa città organizzandosi con tutte le figure professionali per quanto riguarda la ristrutturazione delle scuole, 33 plessi scolastici abbandonati che noi conosciamo, in più la villa comunale, la gestione delle attrezzature sportive che vadano all'interesse collettivo e diano un supporto tecnico e non soltanto, diano un po' di respira ai disoccupati della città e queste sono le nostre rivendicazioni. La democrazia è una bellissima parola, metterla in pratica è la cosa più difficile perché io credo che la democrazia oggi è intesa come la vediamo oggi in questa città e anche rispetto alla crisi globale che attanaglia l'intero pianeta come una questione soltanto di interessi. La democrazia è il popolo, è coloro che hanno votato per delegarli a governare. Rivelazione shock di un dipendente della sovrintendenza agli scavi di Pompei, c'è amianto sotto i lapilli, all'interno del perimetro che delimita l'area archeologica c'è materiale inquinante. I carabinieri hanno già effettuato un sopralluogo nell'area indicata dall'uomo, a breve sarà disposta una perizia. I decessi causati da malattie tumorali tra funzionari, archeologi e custodi agli scavi di Pompei sono per il momento sette. E cambiamo decisamente argomento come ogni settimana Unica Channel propone un viaggio alla scoperta degli sport estremi. Stavolta parliamo di motocross. Uno sport che mette a dura prova le doti degli atleti in una costante sfida con la forza di gravità. Motocross Il motocross è uno sport estremamente spettacolare, anche durante le gare infatti i piloti si esibiscono in salti con la moto praticamente orizzontale al tracciato, oppure nei cosiddetti whip, salti col posteriore di traverso per aria, per poi atterrare come se niente fosse. Una gara consiste generalmente in due manche. Dopo la partenza di massa, con 40 piloti che sono allineati dietro i cancelli di partenza, inizia la manche, che termina dopo un determinato numero di giri o allo scadere di un tempo massimo. I circuiti di cross sono generalmente lunghi tra i 2 e i 3 km e sono caratterizzati da alcune zone naturali e da altre parti artificiali, come i salti o gli hoops, dossi bassi e brevi in rapida successione. Negli Stati Uniti, oltre al motocross, si è fatto largo anche il supercross, che si pratica su piste interamente artificiali, con la presenza di numerosi salti e hoops, e solitamente si tiene nei palazzetti o negli stadi. La puntata completa di Beyond the Edge sul motocross è disponibile sul canale tematico Unica Sport. Ed era questa l'ultima notizia. Vi ricordiamo l'appuntamento per domani mattina a partire dalle 9 e mezza con l'edizione Flash del nostro WebTG. Grazie per l'attenzione e buona giornata.